Ben trovati e buona settimana a tutti da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, continua la fase anticiclonica subtropicale con tempo stabile e temperature ancora in leggero aumento domani martedì e dopodomani mercoledì, condizioni affose in particolare lungo la costa. Il dettaglio, oggi lunedì 18 luglio, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, locali addensamenti sul centro della regione in serata, tempo affoso per valori di umidità medio-alti, in particolare sulle zone costiere, venti meridionali tra deboli e moderati con locali rinforzi, mare poco mosso, localmente mosso sull'impresa in serata, temperature massime stazionare, un lieve aumento lungo la costa tra 29 e 31 gradi nelle zone interne tra 30 e 33 gradi. Domani martedì 19 luglio ancora tempo stabile e soleggiato, seppur con locali passaggi nuvolosi in mattinata e locali innoqui addensamenti sul centro della regione nel pomeriggio sera, permangono condizioni di caldo affoso, venti in prevalenza deboli variabili o brezze costiere, locali rinforzi, mare poco mosso, temperature in generale aumento, minime lungo la costa tra 24 e 26 gradi nelle zone interne tra 17 e 23 gradi, massime lungo la costa tra 30 e 33 gradi nelle zone interne tra 31 e 35 gradi. Dopodomani mercoledì 20 luglio soleggiato con qualche innocuo addensamento nuvoloso, velatura di passaggio in dissolvimento serale, venti in regimi di brezza moderati da sud sul centro interno durante il giorno, mare poco mosso, calmo, temperature complessivamente stazionarie, minime lungo la costa tra 24 e 26 gradi nelle zone interne tra 17 e 23 gradi, massime lungo la costa tra 31 e 33 gradi nelle zone interne tra 31 e 35 gradi. È tutto se avete leggermente su arpal.liguria.it, sui social d'agenzia compreso il canale Telegram e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!